Buongiorno, sono Filippo Manoni, mi occupo di consulenza di direzione e oggi sono docente del corso di reporting direzionale e per l'alta direzione. Stiamo lavorando su strumenti molto evoluti quali la Balance Covercard, parleremo di Business Intelligence per aiutare gli studenti a capire come partendo dalla contabilità si può misurare l'azienda anche con gli indicatori legati alle strategie e legati agli obiettivi, per cui partiamo dalla contabilità ma arriviamo a misurare l'azienda con degli strumenti molto evoluti, automatici e con possibilità di correlazione con le strategie. Buongiorno a tutti, sono Dario Mandarano, sono l'amministratore delegato della Machi per S.P.A. ho scelto di fare questo corso allo Skill Lab perché ritengo che i docenti e la qualità del corso siano decisamente all'altezza delle aspettative che mi ero posto. Vedremo come andrà a finire ma fino ad ora tutto è decisamente interessante.